Ciao. La mamma è andata a casa. Prego. Gli esercizi di logopedia non li hai fatti, vero? Tanto cos'ho da dire a quello e a un cretino. Ok. Ora però ci sono io. Quindi, parla. Perché ti nascondi sempre dietro questi capelli? Sei così carina. Ci credi pure tu, allora? L'hai visto?